I comuni possono già da ora adottare gli atti di loro competenza per far partire il reddito di inclusione sociale. Lo precisa la Regione in una nota ufficiale. In merito all'applicazione della legge regionale 18-2016, con la quale è stato istituito il reddito di inclusione, i comuni hanno piena facoltà di adottare tutti gli atti che rientrano nei compiti loro assegnati dalla legge. L'adempimento di questi passaggi da parte delle amministrazioni rende maggiormente efficiente e celere il procedimento nei confronti dei cittadini in attesa di risposta alla condizione di disagio e deprivazione materiale. A breve, conclude la nota, verrà inviata una comunicazione contenente ulteriori specificazioni relative alle procedure. La Regione ha deliberato la proroga di 12 mesi dei piani personalizzati di sostegno per persone con handicap grave. Per il primo trimestre del 2017 sono confermati gli importi dei contributi stabiliti con i piani in essere. Per il calcolo dell'eventuale conguaglio, i beneficiari dovranno presentare il modello ISEE 2017 entro il 19 febbraio. Nuovo appuntamento dedicato alla microcipatura dei cani non ancora iscritti all'anagrafe giovedì 19 gennaio presso l'ex matatoio di Oristano. L'iniziativa, promossa dalla struttura del benessere animale e prevenzione del randagismo dell'asle di Oristano, è rivolta ai proprietari di cani residenti in città e nelle frazioni di Donigala, Massama, Nuragini e Edu, Sili e Torregrande. Alla prestazione gratuita si accede solo su prenotazione, chiamando il numero 345 661 9323, da lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.30. All'utente saranno comunicati luogo, data e ora in cui il proprietario o un suo delegato dovranno presentarsi all'appuntamento muniti di un valido documento di riconoscimento. L'eventuale delegato dovrà esibire anche la delega del proprietario compilata sulla base del modello scaricabile dal sito www.asleoristano.it. Quando si accompagna il cane per la microcipatura è necessario portare con sé i sacchetti igienici per la raccolta degli escrementi e che gli animali di taglia grande o carattere aggressivo dovranno avere appositi strumenti contenitivi. Il 27 gennaio si celebrerà il giorno della memoria, istituito in Italia con la legge 211 del 20 luglio 2000. La Repubblica Italiana, infatti, riconosce il giorno 27, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, per ricordare la Shoah, ovvero lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Per l'occasione il liceo artistico Carlo Contini ospiterà la mostra Omo Causto, lo sterminio dimenticato degli omosessuali, curata dall'Arcigay e con l'apprezzamento del presidente della Repubblica Italiana. L'installazione d'arte contemporanea Omo Causto, realizzata dagli studenti del liceo artistico Carlo Contini, è Paragraf 175, film di Rob Epstein e Jeffrey Friedman, che racconta le storie drammatiche di alcuni omosessuali perseguitati durante il nazismo e sopravvissuti allo sterminio. L'iniziativa, curata dal docente Ivo Serafino Fenu, è realizzata in collaborazione con il Centro di Documentazione della Memoria Cosimo Orru di San Veromilis. Le varie proposte espositive che occupano tutto il secondo piano del liceo propongono un vero e proprio viaggio nel terribile progetto nazista di pulizia etnica, offrendo, con l'installazione creata dagli alunni, una meditazione dolorosa quanto consapevole sulla lucida follia che governò uno dei periodi più bui della storia europea. L'iniziativa rientra nel progetto scolastico secondo piano, destinato a ospitare eventi espositivi di qualità rivolti sia alla popolazione studentesca sia ai cittadini tutti, fornendo agli attuali studenti la possibilità di cimentarsi in attività allestitive e critiche quali potenziali possibilità professionali una volta portato a termine il percorso scolastico. Le mostre saranno visitabili dal 21 gennaio al 18 febbraio, la mattina dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13, il pomeriggio nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, dalle 15.30 alle 18.00. L'ingresso è libero, per le scolaresche è necessaria la prenotazione. Sabato 21 gennaio alle ore 10 presso il Centro di Cultura Popolare di Santo Lussurgio, dopo i saluti del Sindaco Diego Loi e del Comandante dei Barracelli Antonio Irranca, si svolgerà un convegno che avrà come argomento come tutelare la piccola proprietà contadina, le nostre greggi e mandri al pascolo, l'ecosistema dei nostri territori. L'Istituto delle Compagnie Barracellari nacque intorno alla metà del 1600, con carattere privatistico e con la finalità di garantire la sicurezza patrimoniale di agricoltori allevatori. Alla fine del 1700 fu trasformato in un pubblico servizio obbligatorio e nel 1853 fu affidato ai comuni per il controllo delle compagnie locali, controllo che ancora oggi sussiste. Al convegno interverranno Antonio Vinu, che parlerà degli aspetti ecologici legati alla raccolta indiscriminata dei frutti spontanei. Antonello Spada che spiegherà alcune problematiche riguardanti i frutti spontanei, normativa generale e principio di appartenenza al Dominius.